Gravissimo lutto nel mondo dell'arte è morto il grande Fernando Botero a 91 anni di età, famoso scultore della Colombia, conosciuto a livello universale per grandi figure umane che andava a rappresentare nelle sue opere. Infatti adorava, diciamo così, rappresentare e mettere in forma artistica le persone obese, i grassi, come si dice nel linguaggio volgare. La notizia è stata confermata di recente, Botero era l'artista più importante e più grande di tutti i tempi, il decesso si è verificato, pensate, in Italia, in Versilia, ma lui era nato a Medellin, proprio in Colombia. Tra l'altro veniva in Italia spesso e volentieri perché l'Italia gli piaceva, come si dice in web. Grazie a tutti utenti di Youtube, Fernando Botero riposo in pace. Amen.